A presto, a presto, a presto. A presto, a presto. Non siamo a Manbrui con la ricchezza che Manbrui ha, però questo centro ha bisogno di diverse cose. Nei tempi della pandemia e della guerra in Ucraina pensiamo che potremmo stargli vicino con 4.200 euro. Per fare che cosa? Una cosa molto semplice. Vi farà anche un po' ridere, ma hanno bisogno di un pollaio. Nel pollaio metterebbero le galline che farebbero le uova e che potrebbero aiutare i bambini. Vedete che abbiamo qui qualche gallina che gira. Però vorrebbero aumentare proprio il numero di questi polli. Vedete là in fondo. Un pollaio verrebbe costruito a partire da qui e arriverebbe qui dove siamo noi. In questa parte, in un pudino, in questa parte, diventerebbe un pollaio. 4.200 euro può prenderebbero una macchina che confeziona le diverse uova e quindi alla fine le uova che sono i più le venderebbero. Mi sembrerà un progetto stupido, però proprio le cose piccole e semplici sono quelle che occorrono di più. Stateci vicini, amici, in questo tempo di pandemia un saluto dall'Africa. Già, 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 Già.